Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignol. Previsti neve o nevischio, inserata in A1 variante di valico e panoramica in entrambe le direzioni. Si ricorda l'obbligo di dotazione invernale a bordo come catene da neve o gomme termiche per la maggior parte delle strade e autostrade toscane, elenco disponibile sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori, tra Tavarnelle e Poggi Bonsi Nord. Riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Ligioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento A1, Firenze in Pluneta. Dalle 15 alla mezzanotte di oggi provvedimenti di sosta e circolazione nei pressi dello Stadio Franchi a Firenze per manifestazione sportiva. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie per la visione!